In questi giorni alcune leadership hanno fallito, hanno alimentato tensioni, hanno creato divisioni, invece noi dobbiamo lavorare per unire, dobbiamo lavorare per allargare. La politica in questi giorni è rimasta vittima di se stessa e per fortuna questo Stato lo hanno risorto il Parlamento della Repubblica con i propri parlamentari, con i grandi elettori, grazie anche al contributo del Presidente del Consiglio Mario Draghi. In questi giorni ho sentito dire che Mario Draghi deve restare a Chigi perché è il più alto profilo per gestire la crisi che stiamo vivendo, sono pienamente d'accordo e per farlo dobbiamo metterci al lavoro subito, da domani, perché il Paese ha le sue sacrosante priorità e spero che nessuno da domani si metta ad alimentare giochini o tensioni o divisioni. Infine io non commento quello che sta accadendo nelle altre forze politiche, credo soltanto che anche nel Movimento 5 Stelle serva aprire una riflessione politica interna.